Non so perché, mi sento tipo interrogatorio poliziesco dei film degli anni 70, comunque siamo qua alla pettegola, alla lab 900, diciamo che la seconda forse è andata meglio della prima, e che dire, mi dispiace per chi non è venuto stasera, chi non ha trovato posto per venire a cena, vi ricordo settimana prossima magari di alzare il telefono un'idea e può essere che riusciamo a mettere per i posseduti meglio di oggi, per il resto, vabbè raga, io vado a ballare perché c'è la musica e mi spiega il telefono, buon proseguimento!